Buongiorno a tutti, siamo con l'imbarcazione di Nazareno, Mariotti, con Federico, giovane pescatore Gagliardo di San Benedetto del Pronto, che ha innescato le cani, probabilmente siamo in drifting a Tony, con Davide, Davide Capitano, Davide, stiamo pescando con delle S3 Cup Fishing, L2, 30L, 1, è appena partito, è appena partito, guardati, guarda, sta in canna a Federico, guarda, potete vedere? Aspetta, aspetta, pesca bene E Michelino, quanti pezzi abbiamo liberato oggi, con questo è il terzo Prima bisogna portarlo sotto, mai dire prima Eh ma è vecchio, è vecchio, qui abbiamo il big game italiano, non sbaglia, un colpo è il vecchio Ma no, mai dire mai nella vita Certo, certo, fantastiche le S3 sono fantastiche, no belle Ci siamo un bel timing qua Mamma mia, due minuti e devo metterla giù Ho fatto due minuti e quaranta di filmato Cosa state facendo? Doppio 3 Eh, ce la state facendo? Mamma là, che è sempre quello No, che è sempre quello, dai, che ha preso due ami, un amo solo, due ami Siamo al quinto Ci vuol fare di lasciare un uomo, eh Allora la marca, come che si può? Allora la marca, Drio, allora la marca Un bel odio, ahahahah Ahahahah Dai, dai, dai Sì, dai Sì, dai Al prossimo episodio Grazie a tutti